Bene amici, da tanto tempo che non aprivo uno scatolone di accessori, allora ci pensa allogite a mandarmene uno, ero un po' in astinenza E sì, no, è pieno di cose goduriose Partiamo dal telecomando Universale Harmony Ragazzi, io è una vita che uso gli Harmony, sì è vero, poi ultimamente ci sono tante applicazioni su smartphone che possono emulare i telecomandi Ma avere un telecomando fisico con i tasti per comandare praticamente tutta è una gran cosa Lo uso ancora, sarà almeno secondo me 15 anni che ci sono gli Harmony Da quando avevo i primi impianti home theater che non sapevi mai come comandare, set of box, tv, vabbè Poi abbiamo le MX Sound, un sistema di casse per pc e anche bluetooth E poi, no, la cosa che mi scimmia un sacco, no, non è questo MX Master 2S Che è comunque un buon mouse, ma non è nemmeno questo MX Vertical che immagino sia anche lui un buon mouse Tra l'altro, tra l'altro, è qualche giorno che mi faceva male qua, non so, l'avambraccio, un pochino la mano Sono andato dal medico e mi ha detto, ma lei quanto sta al computer? Io ho detto, vabbè, glielo devo proprio dire E mi fa, potrebbe essere la posizione che tieni la mano con il mouse Allora, questo vertical, adesso lo proverò un po' e vi dirò se effettivamente questa posizione verticale è ergonomica Ma eccolo qua, la cosa che volevo provare di più in assoluto La tastiera Craft, bellissima, veramente bellissima, compatibile sia con Windows che con Mac Apro tutto e poi provo tutto Unboxing dell'Harmony Ho veramente la bavetta alla bocca Perché è l'ultimo, questo, l'Elite Non l'ho mai provato Ero rimasto a qualche generazione fa E mamma che bella confezione Basetta dove lui si va a ricaricare Poi questo dovrebbe essere il, sì, il sensore remoto Dovrebbe essere poi qua sotto un sacco di roba L'alimentatore, le varie prese spine e le istruzioni oltre ai cavetti Porto tutto a casa, installo e telecomando E poi MX Sound con ovviamente l'alimentatore e le casse Tra l'altro guardate che bel design anche con il bus reflex dietro Con tutti gli ingressi oltre al bluetooth Cosa c'è qua? Ah sì, il jack analogico L'MX Master 2S che ha anche qua una plastichina da togliere Che libidine con un sacco di rotelle, rotelline personalizzabili E l'MX Vertical che ha il cavetto Anche se lui dentro ovviamente ha una batteria Perché può essere usato in maniera wireless bluetooth Ma non solo può essere collegato anche alla collettività di Logitech E... Devo dire una cosa Che già appoggiando la mano così è una cosa diversa rispetto a tenerla così E anche questo se guardate è leggermente inclinato sulla destra Per far sì che la mano non stia proprio dritta ma un pochino inclinata Come è naturale che sia Quando appoggiamo le mani la mano sta un po' così Non sta sempre dritta Insomma, postura per adesso ci sta Installo tutto ma manca il pezzo forte Oh, eccola qua Con la wheel Che è personalizzabile Dovrebbe integrarsi anche con Premiere per i comandi Anche qua ovviamente è comandino bluetooth O collegamento via cavo Zizi tutti, soundcheck Eh, mi pare figa Molto silenziosa Mi sembra molto bello il feed della tastiera Il tasto command Il tasto start Ci possono attaccare più device Sì, sì Questa sarà la mia nuova postazione per il PC Mac E niente, vai, installo tutto e poi proviamo tutto E dopo aver installato tutto e provato tutto Vi posso dire Mamma mia, mamma mia Che belle periferiche Che qualità dei materiali Come funzionano bene Ma facciamo un passettino indietro Perché voglio parlarvi di questa tastiera Craft La prima cosa che mi è piaciuta tantissimo È la retroilluminazione Guardate, basta Avvicinare le mani alla tastiera I sensori di prossimità L'accendono con una retroilluminazione Che sì, è regolabile Ma si adatta sempre in maniera perfetta Al contesto E poi Vi parlo subito di una cosa Che è fondamentale per una tastiera La digitazione È veramente Bella C'è poco da dire La corsa del tasto è precisa Il rumore sommesso I pulsanti sono messi tutti quasi nella posizione giusta Perché per esempio il tasto funzione Che attiva i tasti FN È messo qua a destra Magari l'avrei preferito a sinistra Ma si può anche lasciare che i tasti funzioni Siano sempre attivi E poi c'è l'alza bassa al volume Ci sono tutte le scorciatoie del Mac Per andare a vedere tutte le finestre O per il launcher rapido Insomma veramente mi sono trovato benissimo E poi vi parlo della rotella Che funzionalità può attivare? Beh vi dico tante Perché abbiamo un pannellino di controllo Vedete sulla tastiera Dove possiamo proprio settare Che cosa far fare alla rotella Di base su tutte le applicazioni Quindi standard va a regolare il volume Se premuto va a far andare in play o pausa Se abbiamo un'applicazione musicale E si può anche navigare tra le applicazioni Premendo e tenendo premuto E girandola Vedete la rotella Ma tutto questo è personalizzabile Vedete possiamo settare Che cosa fagli fare Ma soprattutto è personalizzabile Anche per applicazione Per esempio io voglio che in premiere La rotella faccia altro E posso far fare altro alla rotella Ve lo faccio vedere subito Vado qua in premiere Se la giro in questo caso Posso navigare nella timeline Piano o velocemente In base alla velocità di rotazione Della rotella Ma siccome lei è touch Basta sfiorarla sopra E vedete si passa alla funzionalità Di jog wheel Ovvero riproduzione Che può aumentare o diminuire di velocità In base a quanto La giriamo E questa cosa è veramente comoda Per il montaggio Soprattutto quando la utilizziamo In navigazione timeline Andare avanti di Diciamo frame per frame Diventa veramente molto comoda Ecco l'unica cosa Che avrei preferito Che questa finestrella Scomparisse Sempre subito E non quando si riprende In mano la jog Anche girandola lateralmente Senza schiacciarla sopra Niente Torna fuori questa finestra Che è un po' scomoda Perché magari va a coprire Un'area che ci interessa Però la funzionalità È veramente molto molto buona Per esempio Se andiamo su Safari Chrome O comunque Un'applicazione Di browsing Girando la rotella Si passa da una Da una tab All'altra E poi per esempio Se apro Spotify Ovviamente Possiamo andare a fare Il controllo del volume Precedente e successivo Oppure la ricerca Veramente Ben fatta Mi è piaciuta Un sacco Lei è a batteria La batteria dura Circa 4-5 giorni Con un uso Veramente intenso Qua c'è la tipo C Ovviamente può essere Collegata anche Cablata Al pc Tranquillamente A quel punto La rete d'illuminazione Rimarrà sempre accesa Sempre e comunque Alzandosi e abbassandosi In base al contesto La cosa bella È che ha la possibilità Di essere collegata A più device Vedete Tre contemporaneamente Si può switchare Velocemente Tra uno e l'altro Ma adesso vi parlo del mouse Poi vi parlo di una funzionalità Che si chiama Flow Che è fantastica Anche il mouse Può essere personalizzato Qua andando Nei dispositivi personali Si va qua Puntamento e scorrimento Velocità del puntatore Lo scorrimento Ovviamente si possono andare A definire anche La funzionalità Dei tasti Tra l'altro non vi ho detto Che nella tastiera Si possono anche creare Delle macro Personalizzate Quindi schiacciando Uno di questi pulsanti sopra Ma ve lo faccio vedere Subito Così È giusto Che secondo me Far vedere anche questo Mission Control Non vi serve Allora possiamo Assegnare un tasto E vedete Si fa il click Sulla tastiera E viene assegnato Anche la combinazione Di tasti Oppure si può anche Avviare Un'applicazione O guardate Quante sono Le opzioni Di personalizzazione Di ognuno Di questi tasti Qua sopra Alla Alla barra Funzione È veramente Molto molto comodo Ma tornerei Al mouse E vi parlo Di ergonomia Allora vi dicevo Che a me fa un po' male Il polso E il braccio Quando uso tanto il mouse E devo dire Che con questo Ho avuto meno Questo problema Però mi sono dovuto Un po' abituare Alla forma Forse è un pochino Troppo Verticale E allora Forse rispetto Al mouse Di Apple Che è bellissimo Guardate Anche lui Si ricarica Con la tipo C Anche lui Ha un sacco di funzionalità Ma Lo trovo L'ho usato per tanto tempo Un po' scomodino Adesso che sto usando gli altri Perché costringe proprio A un utilizzo Molto piatto La mano Vedete Non sta In posizione naturale così Ma sta molto Molto piatta E allora Forse la via di mezzo Tra questi due È lui E lui Si riesce a usare Molto bene Tra l'altro Ha una cosa bella Perché la rotella È un po' pesantina E quindi Ha una sorta di scorrimento E per scorrere nelle pagine Diventa molto comoda Però Se notate Ha una Diciamo Ha un asse Di inclinazione Che sarà circa 10 gradi Il che fa sì Che la mano stia Leggermente inclinata Lo vedete qua Ma non troppo inclinata Quindi non bisogna Prendere l'abitudine Come questo È comunque molto comodo Tra l'altro Tutte e due hanno La velocità personalizzabile Basta schiacciare Il pulsantino qua sopra Vedete Tre velocità Ma Se teniamo Premuto Il pulsante Possiamo regolare Live La velocità Del puntatore Ed è una funzionalità Molto molto comoda L'ultima cosa che ho installato Sono le casse Le MX Sound Ma passate un indietro Perché prima vi ho detto Di Flow Che cos'è Flow Io Non ho due PC Ma se avessi due PC Sia la tastiera Che il mouse Possono connettersi Fino a tre Anche se avessi tre PC E allora posso Usare delle scorciatoie Per fare il copia e incolla Di testo e di immagini Da un PC all'altro Semplicemente Usando Tastiera e mouse E tra l'altro Spostandosi Alla fine del display Di un PC E andando sull'altro Automaticamente Se ovviamente Abbiamo installato Questa applicazione Anche sull'altro PC Il mouse Si sposta Cambia PC E si riesce a comandare In continuità Senza dover schiacciare niente È veramente una funzionalità Geniale Ma ripeto Vi parlo un attimo Delle casse E torno qua Su Premiere Metto in play E sentite Audio pulito Si sente bene Ci sono i bassi Ma ve lo sto facendo sentire Non con la Diciamo musica Ma con la voce Appena ci si avvicina Alla cassa Vedete Si accendono i controlli Si può alzare E abbassare il volume E adesso Ho il collegamento Aspettate che metto subito In pausa Ho un collegamento Via cavo Si perché Non voglio ritardi Non voglio delay Quando vado a montare Il collegamento via cavo È sempre il migliore Ma loro hanno Anche l'ingresso Bluetooth Oltre che l'ingresso Cavo E l'ingresso PC Ausiliario E allora Vi metto subito La musica Via Bluetooth Ascoltate Eh Si Non ho dovuto Schiacciare niente Ho messo in play Il telefono E loro hanno iniziato A riprodurre musica Si perché hanno Una funzione fantastica Ovvero il Mix Delle Sorgenti Sto zitto Vi faccio ascoltare l'audio Allora Come sentite Si sente molto bene 12 watt RMS La potenza c'è Il design anche E anche la qualità Proprio bella Ma sentite se adesso Io metto in play qua Sentite Mixa Le Sorgenti Si si Io posso sentire Magari abbassando La musica Perché posso controllare La volume Dell'audio Bluetooth Direttamente Dalla sorgente Bluetooth E Niente Posso andare A mixare Le sorgenti Quindi se voglio sentire Una musica di sottofondo Che arriva dal Telefono Voglio comunque montare Il video No montare il video Con la musica è assurdo Ma avere due sorgenti Contemporaneamente Si può Fare È una funzionalità Che non ho trovato Quasi nessun tipo Di cassa Bluetooth Tut e cablata Qua c'è Qualità buona E Se sto facendo così È perché la qualità Si paga Sì sono accessori Che non sono Economicissimi Ma devo dire Che mi hanno soddisfatto Alla grandissima Tastiera Veramente top Costa 200 euro Su Amazon Però si trova meno Si trova a 180 Occhio a prendere Il layout italiano Perché È proprio personalizzato I mouse Entrambi In 110 euro Mi pare Prezzo ufficiale Entrambi su Amazon Intorno agli 80 euro E il sistema di casse Anche qua Siamo su 100 euro Prezzo ufficiale Circa 80 su Amazon Accessori Che mi sono piaciuti Veramente un sacco Ma adesso Vado a casa E provo il telecomando No vabbè Me lo ricordavo Un prodotto fico Ma non così fico È stato migliorato Tantissimo Prima di tutto Basetta di ricarica Questo è il telecomando In parte touch In parte Con i tasti Diciamo Standard E abbiamo due possibilità Schiacciare il pulsante Attività Oppure Andare a comandare I vari I vari apparati Che gli abbiamo memorizzato Può comandare fino a 270.000 apparati Già pre Memorizzati Non sul telecomando Ma sul cloud Perché La novità E il cuore del sistema È questo Che Lab Ha Diverse possibilità Di comandare La domotica Anche Oltre che i televisori Oltre che l'aria condizionata Perché ha la tecnologia Infrarossi E emette Praticamente da ogni direzione Perché non lo so Io l'ho messo qua E ha preso SkyQ Tranquillamente Ha preso anche Un apparato Che è praticamente D'altra parte della stanza Ha la tecnologia Bluetooth Per comandare Quegli apparati Che la supportano E può comandare Anche apparati Via rete Perché lo scatolotto Si collega Al nostro wifi Poi dietro ci sono Due gecchettini Dentro i quali Possiamo andare A incastrare Questi che sono Gli infrarossi Extender Vedete Il cavo è abbastanza lungo Se vogliamo mettere Per esempio Un set of box Che va solo a infrarossi Magari infrattato In un cassetto E comandarlo Si può fare Perché si collega Dietro l'hub Questo jack E si mette qua L'emettitore A infrarossi Per andare A estendere La portata Anche magari In quei luoghi Dove gli infrarossi Pur Non c'è bisogno Che sia diretta La visione Perché gli infrarossi Magari rimbalzano Anche sulle pareti Ma magari Non ce la fanno E con quel gecchettino Si va a migliorare Il tutto Vi faccio vedere Il telecomando Perché è veramente Ben fatto Ergonomicamente E le attività Guardate Io schiaccio qua Schiaccio per esempio Guarda la tv E automaticamente Parte una routine Che mi accende La televisione Che mi accende La soundbar Che mi accende SkyQ Perché riesce A comandare Tranquillamente SkyQ E va a decidere Anche l'ingresso Va a selezionare Che cosa fare Quando si schiaccia Per esempio Il pulsante Alza e abbassa Io adesso Ho configurato La soundbar E quindi Se alza e abbassa Non alza e abbassa Il volume della tv Ma quello Della soundbar Tra l'altro Vedete qua Sul display Si possono anche Andare a configurare Dei tasti Preferiti Con le scorciatoie Per andare a vedere Eventualmente Un canale diverso Dall'accensione Vi dicevo SkyQ Si comanda Si comanda Tranquillamente Non ha problemi L'unica cosa Che non ho trovato Ma secondo me Studiandoci un po' Ci si può arrivare Sono i comandi vocali Il tasto per i comandi vocali C'è però Il tasto Ricerca Perché Quando schiacciamo Su device Vedete Si apre la lista Di tutti i device Che sono Stati Settati Dentro E se vado Su sky DVR Ho le varie Opzioni Vari pulsanti Pulsanti che magari Non ci sono Fisici Si possono andare A creare Là nel Display LCD Ovviamente Quando si schiaccia Off Si va a spegnere Tutto Facendo la stessa Routine Ma al contrario Ho Integrato Nel Telecomando Anche La Xbox One E anche La mia Domotica Si perché L'altra cosa Che mi è piaciuto Tanto È che C'è un'applicazione Companion Adesso Ve la faccio vedere Guardate un po' E praticamente Tramite applicazione Si possono fare Le stesse cose Che si possono fare Dal telecomando Vedete Qua ci sono tutti Gli apparati Che io ho configurato Si può andare A configurare Un nuovo dispositivo Semplicemente Scrivendo Se è un dispositivo Di intrattenimento Qua basta Mentre Marche e modello Ripeto Io ho trovato tutto Controllo Domestico Ci sono altre cose Ma ovviamente Basta che il controllo Domestico Abbia una Connessione In rete Oppure Un Infrarossi E funziona E poi si può andare A controllare Anche il pc Sempre tramite Rete Veramente Molto molto Comoda E le attività Sono sincronizzate Tra l'applicazione E il telecomando Per esempio Se io rischiaccio Adesso Guarda tv Si avvierà La stessa routine Che si avvierebbe Se avessi Schiacciato Il guarda tv Sul telecomando E tra l'altro Guardate Avvio in corso Il telecomando Senza che io abbia Schiacciato niente Perché è tutto Sempre sincronizzato Tra applicazione Hub E telecomando Ovviamente Poi si possono andare A cambiare canale Alzare il volume Insomma A fare le stesse cose Che si fanno Col telecomando Direttamente dall'app Ma avere un telecomando Tanto fisico Secondo me Adesso Rischiaccio Off Per farvi vedere Anche che L'affidabilità È alta È molto comodo Perché questo Lo sbattete Dove volete Non è uno smartphone È meno Meno sensibile Agli urti Insomma È più comodo Avere anche Magari qualche Tasto fisico Che dirvi È veramente Veramente Fico Si riescono A praticamente Eliminare Tutte le comandi Poi con le Programmazioni Si riescono a fare Veramente un sacco Di routine Mi è piaciuto Un sacco Costa anche Un sacco Di listino Intorno ai 310-315 euro Però ho già visto Che su Amazon È a poco Più di 200 E allora Se avete Mille telecomandi Li volete Eliminare Volete Automatizzare Fare E creare Delle attività Delle routine Le più disparate Senza dover Utilizzare Sempre lo smartphone L'Armony È proprio Fico Così come era Fico Anni e anni fa L'hanno implementato L'hanno aggiornato Ad oggi È ancora più Fico Si ho detto Fico mille volte Però Questi accessori E periferiche Di Logitech Mi sono piaciute Veramente Tantissimo E fatemi sapere Nei commenti Magari se volete Più video Di questo tipo Perché Ripeto Gli smartphone Sono sempre un po' Tutti uguali I gadget Le periferiche così Stanno subendo Un'evoluzione Mi sono divertito Ciao Grazie a tutti